Abbiamo visitato il quartiere San Basilio durante un venerdì mattina grigio, ma caldo di ottobre. Avevamo letto del progetto di Street Art Samba, nato dall'associazione Walsh e curato da Simone Pallotta con l'obiettivo di riqualificare il quartiere attraverso opere di arte urbana e laboratori di alfabetizzazione all'arte contemporanea per i più giovani. Siamo rimaste subito colpite dalla visione di questo progetto che non era solo dedicato a valorizzare San Basilio dal punto di vista estetico, ma voleva creare un'occasione di incontro tra gli abitanti dei palazzi coinvolti e gli artisti. La prima tappa dell'itinerario che si può fare comodamente a piedi è la piazza tra via Arcevia e via Treia, dove si trovano sei grandi interventi dell'artista romano Itnes a tema natura e animali. Si prosegue poi verso via Fabriano, dove si trova una grande opera di Agostino Iacurci, che raffigura un uomo anziano che innaffia il suo orto e invita le persone a prendere cura del loro ambiente. Un'altra tappa imperdibile è il pezzo storico di Blu, che raffigura il santo patrono del quartiere, San Basilio appunto, mentre blocca i poliziotti durante uno sgombero. Infine arriviamo alle due opere dell'artista spagnolo Lichen, che abbiamo visto per la prima volta dal vivo proprio qui, a San Basilio. I due pezzi si intitolano El Renacer, che raffigura un rastrello gigante che elimina gli orrori della civiltà industriale lasciando spazio a timidi germogli, ed El Devenir, un affresco sui toni del blu che rappresenta un tripudio di fiori. Ed è proprio qui, sull'angolo in basso, a sinistra di questo muro, che abbiamo letto la dedica che Lichen ha fatto alle signore della palazzina che gli hanno preparato il pranzo. L'arte urbana non è solo la creazione di un'opera sul muro e su qualche tipo di contesto urbano, ma è il frutto di una sinergia umana nata da una connessione creativa e questo gesto di Lichen ne è la perfetta prova.